Il Sabato Santo, nelle nostre parrocchie, c'è questa tradizione della benedizione delle uova. Che senso possiamo dare a questo momento anche in vista della Pasqua? Beh, è una tradizione che sicuramente ha un suo significato e naturalmente vissuta in un contesto veramente pasquale che però trova, diciamo, il suo culmine nella veglia pasquale. Allora questa celebrazione a carattere più tradizionale vuole semplicemente dire che anche ciò che fa parte del nostro cibo appartiene al Signore, qualcosa che Lui ci dona per la nostra gioia, per la gioia delle nostre tavole. Vuol dire ringraziare il Signore di questo e vuol dire anche benedire un segno di vita. L'uovo è sempre stato nella tradizione un segno di vita e dunque la vita nuova di Cristo che risorge viene rappresentata proprio attraverso questo segno, questo simbolo di vita. Ma soprattutto la Pasqua che dobbiamo vivere è quella che nasce dal sepolcro vuoto di Cristo, la vita nuova che esplode oggi nel mondo di cui l'uomo ha veramente bisogno e con la Pasqua nasce la speranza, nasce la gioia, nasce la fiducia in un futuro anche se a volte questo futuro è un po' come il tempo di questi giorni, così un po' nebbioso, un po' pieno di pioggia. Ma nel nostro cuore c'è questa grande speranza. Cristo è veramente risorto ed è l'augurio che ci scambiamo anche vicendevolmente, l'augurio proprio di una Pasqua vissuta nell'amore, l'amore di Cristo di cui veramente tutti abbiamo bisogno, soprattutto là dove a volte lo scoraggiamento, la preoccupazione prevalgono un po'. Cristo davvero possa regnare nel cuore di tutti portando quella serenità, quella gioia che per l'uomo oggi è veramente come il cibo necessario, veramente come l'aria. Quindi colgo anche l'occasione per fare ai parrucchiani, a tutti i cittadini di Clusone gli auguri più cordiali, così anche a tutte le altre persone, di vivere una Pasqua veramente di pace e di gioia, soprattutto nell'intimità della propria famiglia.